Musica Blizze della polizia nel Cosentino, i pusher spacciavano anche davanti alle scuole 20 misure cautelari. Ritrovato a steccato di Cutro l'ottantunesima vittima del naufragio dei migranti. Sequestrate nel Lamettino due discariche abusive di rifiuti speciali. Parte a Monterosso la rassegna cinematografica L'Arte del Corto. Ben ritrovati con una nuova edizione della nostra informazione. Smantellata una rete di spacciatori che operava a Cosenza e nel suo Interland. 20 le misure cautelari eseguite dalla polizia. 5 in carcere, 10 agli arresti domiciliari e 5 cogliò l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ritenuti tutti responsabili a vario titolo dei reati di detenzione, i fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione di armi. Operazione antidroga Cosenza che ha portato agli arresti 15 soggetti, di cui 5 in carcere e 10 ai domiciliari, accusati a vario titolo di 200 capi di imputazione, che vanno dalla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, hashish e marijuana, all'estorsione come conseguenza dell'attività di spaccio, fino alla detenzione abusiva di armi. Altri 5 hanno avuto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione, denominata Pressing, è partita dalle indagini della squadra mobile Cosentina, che stava facendo in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, sia nel capoluogo Bruzio che nelle zone limitrove. La rete si estendeva tra via Popilia, il centro storico e l'autostazione, zone ad alta densità criminale e frequentate da giovani e cittadini extracomunitari. Qui gli spacciatori non esitavano ad intrattenere rapporti di scambio merci tra di loro, al fine di non lasciare mai clienti a secco, clienti dalla provenienza etereogenea, a volte anche della cosiddetta Cosenza Bene. Ma se questi non avevano problemi per pagare la merce, altri invece si trovavano in difficoltà, da cui reati legati all'estorsione e alla detenzione di armi. Gli arrestati non si facevano scrupoli a rivolgersi alle famiglie per ottenere quanto dovuto. Nell'operazione Pressing sono stati impegnati 150 poliziotti, oltre che della squadra mobile di Cosenza, anche dei commissariati distaccati di Corigliano Rossano, Paolo e Castrovilleri, nonché dei reparti e prevenzioni crimine di Cosenza, Vibo Valenza e Siderno, delle unità cinofile della questura di Vibo Valenza e del reparto volo di Reggio Calabria. E torniamo a steccato di Cutro dove sono stati ritrovati altri due corpi, un uomo adulto e un altro corpo appartenente ad un uomo dell'età apparente di circa 30 anni. Salgono così a 81 le vittime del naufragio, intanto proseguono senza sosta le ricerche di altri dispersi. E nella giornata di mercoledì 15 marzo al porto di Reggio Calabria è previsto l'arrivo di 589 migranti a bordo della nave Diciotti, proveniente da Lampedusa. Segnalata la presenza di numerose famiglie con bambini e molte donne, tutti i migranti verranno poi trasferiti secondo il riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Grazie alla cooperazione internazionale tra le forze dell'ordine in Canada è stato rintracciato un latitante vibonese appartenenti alla locale di Santonofrio, ricercato per rapina e anche perché coinvolto nell'operazione Rinascita Scotto. L'uomo è stato arrestato ed estradato in Italia. Grazie alla cooperazione internazionale tra forze dell'ordine, un altro esponente della criminalità vibonese, ritenuto organico alla locale di Indrangheta di Santonofrio, e responsabile di associazione di tipo mafioso, intestazione e fitizia di beni, nonché di una rapina da 220 mila euro commessa con l'uso delle armi insieme ad alcuni complici ai danni di una filiaria bancaria della provincia di Vibo Valenza, e ricercato nell'operazione Rinascita Scotto, è stato preso in custodia dai carabinieri del nucleo investigativo di Vibo Valenza insieme all'uomine dell'ufficio di polizia di frontiera presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiamicino. L'uomo tre anni fa era sfuggito alla cattura poiché è domiciliato in Canada ed era stato dichiarato latitante nel febbraio del 2020. Ma grazie all'unità ICAN, Interpol Corporation Against Indrangheta, grazie alla quale poco più di un mese fa era stato anche arrestato Antonio Strangio, è stato rintracciato e espulso dallo Stato nordamericano e consegnato ai carabinieri. Persone non identificate hanno danneggiato a Crotone il camper del progetto On The Road della cooperativa Croton Community, con il quale i volontari di strada distribuiscono da anni i pasti caldi alle persone in difficoltà nella città. Il mezzo, che si trovava parcheggiato in un'autofficina per alcune riparazioni, ha subito la rottura della parabrezza. Il presidente dei volontari di strada, Aldo Pirillo, ha presentato una denuncia. Al gesto ha risposto immediatamente la solidarietà della popolazione, la riparazione del parabrezza, è stata offerta gratuitamente e il camper potrà tornare a percorrere le strade di Crotone. La strada provinciale, che da Santo Femme ad Aspromonte collega diversi comuni dell'Aspromontano, da diversi anni versa in condizioni di criticità. I cittadini lamentano una manutenzione appropriata. Graziano Tomarchio ha sentito per noi il sindaco della cittadina, Pietro Violi. Signor Roberto, questa è una strada che porta in vari paesi alla piana di Gioetta, oltre che all'imbocchio d'autostrade. Ecco, una strada non percorribile più. Non percorribile più, ma da un po' di tempo, anche per le intemperie e per la manutenzione, credo, perché se no non si spiega diversamente. Ma questa è una strada che conduce anche agli svincoli dell'autostrada. E quindi i paesi di Delianova, Cosoleto, Sinopoli, Santo Femme si servono di questa strada. Purtroppo con tutte queste buche, non solo che si creano disagi alle macchine, quando piove specialmente o quando c'è nebbia succede, ma le macchine, giustamente, noi... È pericoloso, ecco. No, è pericoloso, ma partiamo anche dal fatto che noi ci rimettiamo un sacco di soldi, perché arrivato a un certo punto, se camminiamo su una strada piena di fosse, le macchine già... Ma la cosa più importante è anche un'altra, che certe volte, giustamente, qualcuno per evitare qualche buca, qualche cosa, perché ci sono le buche, magari con una manovra, una sterzata, una manovra, rischia anche di investire. E queste non sono cose. È un pericolo. Ed è un pericolo, certo. Io più volte ho chiamato il sindaco della città metropolitana, anzi, il presidente della città metropolitana, Carmelo Versace, e ho più volte parlato con lui, mi ha rassicurato che la strada verrà ristrutturata, nel senso che verrà fatta, per quanto riguarda l'uscita della vecchia autostrada, fino a Santo Femme, verrà rifatto praticamente il manto stradale. Quindi da qua a breve, da qua al 30 aprile, il manto stradale, secondo la città metropolitana, e secondo l'ANAS, verrà fatto perché rientra nei compiti di... Anche perché questa qua è un'arteria così importante, perché oltre a Santo Femme collega altri paesi alla fascia spravontana. Sì, collega la Spromonte, collega Gambari, perché Gambari, tutti quanti sappiamo, è un centro turistico dove, specie il sabato e la domenica, ci sono molte persone che vanno a sciare oppure vogliono passare una giornata tranquilla in montagna. Quindi questo tratto qua è stato segnalato più volte da noi, sia alla città metropolitana che all'ANAS, e entrambe mi hanno garantito che entro aprile verrà fatto. Questa volta si parla di turismo, si parla di però, e poi le strade sono a Colabrono. Bravo, sì sì, purtroppo qua in Calabria o nella nostra zona abbiamo sempre avuto queste difficoltà. Se voi vedete pure le strade che salgono in Aspromonte, è un po' messa male, male, male. Quindi dobbiamo far sì che questa strada ritorne a essere quella strada dove portava migliaia di cittadini, migliaia di calabresi nei posti turistici, quale Gambari. Oppure questa strada porta pure a Polsi, quindi è frequentata pure da persone, da fedeli che vanno verso il santuario, e quindi è una strada molto importante. I controlli di polizia ambientale effettuati dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme e dalla Capitineria di Porto di Vibo Valencia hanno portato al sequestro di due discariche abusive create all'interno di due aziende specializzate nel commercio e recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici operanti nell'Interland Lametino di un'officina specializzata nelle riparazioni di mezzi e attrezzature agricole. La salvaguardia dell'ambiente è da tempo nel mirino delle forze dell'ordine di varie procure. Nei mesi scorsi infatti sono stati tanti siti controllati al fine di accertare eventuali negligenze o fenomeni di inquinamento. In particolare due aziende specializzate nel commercio e recupero per il riciclaggio dei cascami e rottami metallici operanti nell'Interland Lametino nonché un'officina specializzata nelle riparazioni di mezzi e attrezzature agricole sono state attenzionate dai finanziari del gruppo della Guardia di Finanza di Villa Mezzaterma e dai militari della Guardia Costiera di Vibo Valencia Marina. Le verifiche che la Polizia Ambientale ha eseguito con l'ausilio del personale tecnico dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria hanno consentito di accertare che due impianti per contenere i costi dello smaltimento dei rifiuti avevano realizzato delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto dove venivano abbandonate enormi quantità di rifiuti speciali pericolosi con la conseguente compromissione del suolo diventando così un potenziale pericolo per la salute pubblica. Gli accertamenti hanno anche portato a ipotizzare diversi reati in materia ambientale nonché alcune violazioni della normativa urbanistica che hanno portato come conseguenza al sequestro di due fabbricati un autocarro e due discariche abusive della superficie complessiva di oltre 7.000 metri quadrati. È una discarica abusiva di rifiuti abbandonati pari a 7.150 metri quadri grande quanto un campo di calcio è stata sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza dalla Guardia Costiera a Corigliano convalidato dall'autorità giudiziaria di Castrovillari. I due ex commissari dell'ASP di Reggio Calabria Giacomo Brancati e Felice Iracà sono stati condannati a risarcire 650.000 euro per la mancata esecuzione di un accordo transattivo. Guai davvero seri per l'ex commissario dell'ASP di Reggio Calabria Giacomino Brancati e anche per il suo vice Felice Iracà La Corte dei Conti li ha condannati in appello rispettivamente al pagamento di 400.000 e 250.000 euro in favore dell'azienda sanitaria ospedaliera Regina Una tegola pesantissima, quella cristallizzata da una sentenza che ha messo il nero su bianco una disattenzione costata cara e salata all'ASP di Reggio Calabria e di conseguenza anche ai contribuenti Una vicenda che risale al 2017 un danno davvero quantificato in 800.000 euro fu addebitato agli ex vertici dell'azienda Regina Una contestazione erariale basata sul danno subito dall'amministrazione sanitaria Regina per la maggior parte spesa è anche dovuta alla non tempestiva esecuzione di un accordo transattivo sottoscritto dal commissario straordinario Brancati proprio per accettazione della proposta formulata da una ditta creditrice il 2 febbraio del 2017 Ma nonostante i solleciti riportati nella sentenza i vertici dell'ASP non avrebbero comunque dunque rispettato i termini e la non puntuale esecuzione di detto accordo che avrebbe così altrimenti consentito un risparmio di spesa pari a 1.847.007,43 sarebbe stata conseguenza della mancata trasmissione dell'atto transattivo all'ufficio del commissario per il piano di rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria ai fini dell'effettivo pagamento In quanto organo di vertici aziendale Brancati avrebbe quindi dovuto assicurare il puntuale adempimento vigilando così sull'operato degli uffici e garantendo quel risparmio di spesa che la transazione avrebbe consentito di ottenere Ma dal suo canto Irakà era stato riconosciuto responsabile nella qualità di subcommissario aziendale e non sarebbe così stato a conoscenza dell'accordo intervenuto con la ditta avendo attivamente partecipato alla sua definizione ma anche perché avrebbe avuto piena contezza del fatto che la transazione non aveva poi trovato esecuzione quanto hanno nel rispetto della tempistica Inoltre la Corte dei Conti ha valutato negativamente l'appello del commissario chiarendo così che il tentativo del Brancati di spostare il baricentre della responsabilità per il danno incontestabilmente subito dall'amministrazione sanitaria non può essere che essere disatteso I giudici hanno anche evidenziato come non sia stato registrato alcun comportamento attivo del commissario nel tentativo di dare così impulso ad un procedimento ormai incanalato su un binario senza apparente sbocco un'omissione tanto più grave quanto più se ne consideri per la sua perseveranza e in appello il collegio non ha ritenuto di poter accedere così all'ulteriore richiesta di applicazione del potere riduttivo in considerazione del disordine aziendale adotto ad entrambi gli appellanti Dal Brancato si è fatto addirittura riferimento allo sfascio organizzativo che avrebbe così in quel periodo caratterizzato la gestione Cambiamo argomento Il Consiglio Comunale di Crotone ha approvato all'unanimità la proposta di sollecitare la bonifica del Castello di Carlo Quinto dalla contaminazione che dovrebbe essere eseguita dal Ministero oltretutto con le risorse finanziarie previste dalla progettualità antica Crotone Il Castello Carlo Quinto di Crotone ha riaperto i battenti seppur in zone limitate nell'agosto scorso tre anni e mezzo fa la struttura pubblica fu chiusa a seguito della decisione del sindaco pugliese dopo la certificazione dell'ARPACA sulla presenza di radioattività ambientale poi la scorsa estate la riapertura parziale adesso il Consiglio Comunale di Crotone ha approvato in maniera unanime la proposta della Quarta Commissione Cultura per la sua riapertura totale il provvedimento di inibizione di accesso ad alcune aree presto sarà rivisto assicurato il sindaco Vincenzo Voce Novità veramente dovremmo approvare un atto di indirizzo da dare alla giunta al sindaco per fare in modo che si velocizzi un po' tutta la vicenda legata alla bonifica i lavori del Bastione San Giacomo inizieranno tra qualche giorno la bonifica il mic è un po' a rilento ma vedremo come come fare per velocizzarla ecco indipendentemente da atti di indirizzo che riceveremo Quindi lei dice che il castello potrà un giorno essere riaperto totalmente Ma assolutamente sì assolutamente così ma tra l'altro io ho sentito proprio sabato la soprintendente e quindi gli ho chiesto sulla bonifica del castello e anche lei è della stessa idea che dobbiamo velocizzare La mozione è stata presentata dal consigliere Fabrizio Omeo Presidente della Quarta Commissione Una mozione della Quarta Commissione Cultura di cui mi onoro di essere Presidente che rileva come a tutt'oggi non sono minimamente iniziato le operazioni di bonifica a carico del Ministero quindi una responsabilità assolutamente non del Comune di Crotone tanto più che questi soldi sono stati estrapolati questi soldi che dovrebbero servire appunto a bonificare delle parti limitatissime del castello che assolutamente non giustificano questa chiusura questa inaccessibilità addirittura del piazzale d'armi e la torre comandante per comprendere ecco ebbene questi lavori non sono neppure iniziati quando invece il Comune di Crotone in questi ultimi 14 mesi dopo una sciagurata rimodulazione va detto che ha fatto delle cose importanti ha fatto dei bandi sono stati individuati dei progettisti quindi abbiamo fatto dei passi in avanti insomma io non credo che la progettura di Antica Crotone così com'è risponderà effettivamente a quelle che erano le aspettative dopo la sciagurata rimodulazione postinesse da questa amministrazione però si sta cercando di salvare il salvabile ma rischiamo ugualmente di perdere i finanziamenti se il Ministero non ci darà contezza di che cosa intende fare al riguardo A Monterosso Calabro nel Vibonese si riparte con L'Arte del Corto la rassegna cinematografica che prevede la realizzazione di cortometraggi nelle location naturali di alcuni comuni delle preserre Vibonesi Anche quest'anno ha preso avvio il progetto L'Arte del Corto che promuove l'idea dell'accoglienza e della diversità culturale attraverso il linguaggio cinematografico L'edizione 2023 si pone ambiziosi traguardi in un momento storico particolarmente difficile e in una terra come la Calabria frontiera di umanità in cerca di riscatto e di speranza Monte Rosso Calabro come sempre è il comune capofila di un percorso artistico e istituzionale che vede coinvolta anche la provincia di Catanzare in numerosi istituti scolastici superiori in questi giorni tra Monte Rosso e Gizzeria è partita la produzione dei cortometraggi dal sapore fortemente emotivo e di grande impatto sociale nelle prossime settimane alla prima fase di full immersion tra le produzioni cinematografiche e le tecniche di ripresa seguirà una fase in cui il territorio coinvolto sarà protagonista di un autentico florineggio artistico con 60 videomakers provenienti da tutto il mondo che trasformeranno Monte Rosso dei comuni di Dassà San Gregorio di Pona Polia e San Nicola da Crissa in un set a cielo aperto il primo a partire è il regista Gino Brotto abbiamo sposato questa fantastica iniziativa del comune di Monte Rosso Calabro l'arte del corto siamo qui a Monte Rosso e Gizzeria per girare il primo cortometraggio della saga di quest'anno che sarà ospitata appunto l'arte del corto giriamo Lacrime di Fango qui in questo contesto magnifico di Monte Rosso Calabro siamo onorati Lacrime di Fango è un cortometraggio ispirato innanzitutto ad una storia quasi reale una storia che vede protagonista un bambino nella sua solitudine non vorrei svelare il finale però diciamo che nella sua solitudine lui costruisce il suo mondo un mondo misterioso che la matrigna poi verrà a scoprire appunto nel finale siamo stati tantissimo ispirati da questi luoghi fantastici e siamo venuti apposta dalla Puglia per girare qui perché è il luogo ideale per le inquadrature per le riprese per il colore che noi volevamo dare a questo film il mio ruolo in questo cortometraggio è quello della matrigna però non è una matrigna cattiva e sono la matrigna di questo bellissimo bambino che si chiama Filippo che si chiama Filippo sia nella realtà che nel film le abbiamo lasciato lo stesso nome che è molto bello e lui inizialmente è un po' diffidente con me però poi dopo insomma lo scoprirete siamo giunti all'ultima notizia nell'ambito del progetto Lo Stretto che Balla dedicato allo studio delle danze tradizionali del sud Italia sabato 11 marzo a Reggio Calabria è stata la volta della Campania con la Tammuriata dell'agro Nocerino Sarnese il bellaggio tra la Calabria e la Campania con i due balli popolari quello calabrese e quello campano allora il ballo campano che abbiamo appena fatto si chiama Tammuriata dell'agro Nocerino Sarnese come il ballo calabrese e il zonu è un ballo che attraversa il cerchio quindi in qualche modo si balla in cerchio perché ci sono un cerchio e ballerini è una danza di coppia però dove coppia non viene intesa solamente l'uomo e la donna ma è una coppia di persone che si comunicano con una gestualità che viene ripresa dalla terra tutti i gesti che come avete visto sono gesti che riguardano la semina che riguardano il raccolto che riguardano proprio il lavoro della terra e dei campi queste danze sono ancora vive in Campania si ballano dal periodo che va dalla Pasqua fino alla fine dell'estate sono balli devozionali dedicati a delle madonne dette madonna in particolare sono balli tradizionali ancora vivi Agatha mi ha invitato così non la chiamiamo noi collaboriamo da tanto insieme proprio perché teniamo tantissimo a questo progetto di diffusione di un popolare che però non sia sfogliato dalla tradizione quindi che sia legato alla storia a quello che c'è dietro la danza il ballo è sport vita e amore ecco c'è tutto dentro assolutamente sì infatti il denominatore comune di tutte le danze tradizionali in particolar modo hanno proprio questo la relazione una forte sinergia l'incontrare l'altro che non è soltanto una persona ma è l'altro anche inteso come gruppo come comunità e che è quello che si crea alla fine anche decontestualizzando per esempio in questo caso la tamburiata non siamo in Campania siamo in arrivo allo stretto però come dire il clima di socialità di benessere e di condivisione è lo stesso di quello che potremmo trovare ad una festa si chiama con lo slogan incontriamoci sempre visto che siamo l'associazione incontriamoci sempre assolutamente sì perché questo progetto e quindi il fatto di ospitare con molto piacere Maria qui è all'interno della rassegna lo stretto che balla che ha visto già Franca Tarantino che ha portato la sua testimonianza per quanto riguarda la danza della pizzica pizzica e Nicoletta Grande per quanto riguarda invece la tantella di Montemarano gli appuntamenti settimanali continuano sono il martedì e il giovedì dalle 19.30 e poi sempre più strano in strada incontriamoci sempre ecco non lasciamoci mai ma oggi è molto importante la campagna e la Calabria perché per riscoprire quelle che sono le nostre identità li stiamo perdendo e attraverso queste danze riscoprire le nostre origini la nostra identità è molto importante oggi più che mai concludiamo con una bella tarantella calabrese per chiudere questo video come si può fare? dobbiamo termina qui la nostra informazione grazie per averci seguito ora spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo via libera del Parlamento europeo alla direttiva sulle case green che fissa l'obiettivo dell'efficientamento energetico degli edifici residenziali in classe D entro il 2033 343 voti favorevoli 216 contrari e 78 astenuti obiettivo non raggiungibile per l'Italia per ragioni storiche culturali e architettoniche avverte il ministro per la sicurezza energetica Pichetto Fratin l'entrata in vigore della direttiva però non è scontata perché quello dell'euro parlamento è soltanto il primo via libera il testo ora dovrà essere oggetto del negoziato finale tra consiglio dell'unione ed esecutivo europeo prima di tornare alla plenaria dell'eurocamera a Cutro è stato trovato il corpo di un'altra vittima del naufragio dello scorso 26 febbraio che porta il bilancio a 80 morti guardia costiera vigili del fuoco e protezione civile continuano a perlustrare la spiaggia alla ricerca dei dispersi una ventina di persone mancano all'appello sei sono bambini intanto mentre si sta procedendo al trasferimento di oltre 900 migranti dall'hot spot di Lampedusa che ormai ha il collasso dal Kenya dove è in visita di Stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a parlare di immigrazione sottolineando come sia necessaria un'azione da parte dell'Europa noi cerchiamo un rapporto di collaborazione con i paesi di origine e transito dei flussi migratori ma sappiamo che la dimensione di questo fenomeno dimensione epocale crescente in ogni parte del mondo non è affrontabile a livello bilaterale ed è affrontabile soltanto con una congiunta lucida ben organizzata azione europea che affronti in maniera sistemica questo grande problema epocale che si presenta attraverso il Mediterraneo ma non soltanto attraverso il Mediterraneo ma anche attraverso la rotta balcanica il gruppo Wagner ha preso il controllo a Bakhmut di una parte dell'impianto industriale Azzon per la lavorazione dei metalli a riferirlo è lo stesso gruppo mercenario Firoluso sul proprio canale Telegram intanto il Washington Post parla di perdite significative di uomini subite dalle forze ucraine dall'inizio della guerra per Kiev sarebbero 120.000 tra morti e feriti rispetto ai 200.000 russi ma Stati Uniti e Regno Unito dopo un faccia a faccia tra Sunak e Biden rivendicano il ruolo di coordinatori degli sforzi internazionali per incrementare gli aiuti militari all'Ucraina e appoggiano Kiev affinché vinca la guerra e si assicuri una pace duratura pace che per il Cremlino è ancora impossibile perché la Federazione russa deve raggiungere i suoi obiettivi dice il portavoce Peskov mentre l'accordo sull'export del grano ucraino viene prorogato di 60 giorni dopo la giornata di ieri decisamente negativa le borse europee corrono con Wall Street sulle scommesse degli investitori che il caso del fallimento della Silicon Valley Bank possa essere gestito senza che la crisi propaghi a tutto il settore bancario Milano avanza del 2,4% con Parigi più 2% e Francoforte più 1,9% mentre Londra contiene i rialzi allo 0,9% a New York il Nasdaq fa un balzo dell'1,8% il recupero della fiducia sulla gestione del più grande fallimento bancario americano dai tempi dei Lehman Brothers spinge il mercato a correggere le attese sulle mosse delle banche centrali dopo che ieri il panico per la crisi della banca californiana aveva provocato il crollo dei rendimenti dei bond i dati sull'inflazione americana che rallenta a febbraio sono stati un'ulteriore iniezione di fiducia a questo clima e premia i BTP italiani che vedono lo spread ridursi di 10 punti a quota 182 il rientro verso valori normali dell'inflazione potrebbe richiedere più tempo del previsto lo riferisce l'istat secondo cui lo scenario internazionale resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza e dai rischi al ribasso nella nota sull'andamento dell'economia italiana di febbraio l'istituto di statistica sottolinea che nel quarto trimestre del 2022 il PIL italiano ha segnato una lieve variazione congiunturale negativa risultato del contributo positivo della domanda estera netta e di quello negativo della domanda interna al netto delle scorte il caos passaporti continua a imperversare in Italia e rischia addirittura di aggravarsi in vista delle vacanze di Pasqua e dell'estate le enormi difficoltà nell'ottenere anche solo l'appuntamento per il documento si moltiplicano numerotissime le segnalazioni di mancanza di posti disponibili e di file interminabili di fronte alle questure si calcola che i viaggi annullati a causa dei ritardi burocratici siano circa 100.000 per un giro d'affari di 180 milioni di euro di mancate vendite per le agenzie di viaggio di viaggio di viaggio di viaggio di viaggio